Signori, buongiorno. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati con il Bauhaus. Come vi dicevo prima, quello che riguarda il destige o tutto il lavoro comunque fatto da Thomas Gerrit Rithfeld, Mondrian e molti molti altri ha influenzato stili diversi, movimenti diversi. Uno di questi è stata in realtà una scuola, una scuola che anch'essa poi ha influenzato tutto quello che è arrivato dopo. Stiamo parlando del Bauhaus. Il Bauhaus è stata una scuola di progettazione nata nel 1919 grazie a chi? Grazie a Walter Gropius, un architetto che ha fondato una scuola ma in realtà unendo due scuole diverse all'interno di una città che si chiamava Weimar, è stata quindi fondata lì unendo due scuole d'arte, due accademie d'arte. La prima guerra mondiale si era ultimata, la Germania nera uscita sconfitta, Weimar si trova in Germania, e doveva essere ricostruita per poterlo fare, visto che la Germania era proprio messa in ginocchio, aveva perso, eccetera eccetera eccetera. Per ricostruirla gli alleati hanno deciso di investire sulla Germania, in che modo? Andando a investire sulle aziende ma andando a investire soprattutto sull'istruzione, perché l'istruzione avrebbe creato poi delle figure professionali in grado di creare nuovi prodotti, ok? Quindi una scuola nata per formare giovani progettisti. Vediamo se vi ho detto altro. Prima scuola, ok perfetto. Ora, per quale motivo farla proprio a Weimar? Oltre alle scuole che erano già presenti all'epoca, l'idea era quella di creare, di crearlo in questa città, perché questa città dava tantissime agevolazioni, letteralmente questo, nel senso che offriva tantissime opportunità. Mi spiego meglio. Quando si voleva, non lo so, progettare un nuovo prodotto, qui questo era un posto che aveva delle botteghe in grado di poterle produrre, oppure la stessa Bauhaus aveva delle botteghe interne, ma poteva poi essere portato fuori dalla scuola per essere poi prodotto, ok? Era una cosa del genere. Prima cosa importante. La scuola del Bauhaus, che viene osannata, quindi questo è importante dirlo, è una scuola osannata perché ha ispirato tantissime cose diverse, ha comunque però i suoi lati positivi e i suoi lati negativi, ok? Ora, lato assolutamente negativo, Walter Groprius, figlio dei suoi tempi, era ancora dell'idea, vediamo se non lo anticipo, era ancora dell'idea che l'artista dovesse dare un'anima ad un prodotto realizzato da una macchina. Cosa voleva dire? Voleva dire che era ancora convinto del fatto che il progettista dovesse essere quello che dava quel qualcosa in più, quella appunto anima al prodotto stesso, realizzato da una macchina. Quindi c'era una sorta di divisione, ok? Tra il, ok, parto progettando con la macchina, oppure, ok, il prodotto è stato realizzato da una macchina, faccio in maniera tale che, di dargli un aspetto migliore. Questo era qualcosa di controverso che oggi non funziona. Altro aspetto è il fatto che la scuola era divisa, era divisa tra corpo maschile e corpo femminile, ok? Ci sono libri e libri che parlano proprio di questo aspetto, e cioè del fatto che fosse molto una scuola maschilista, ok? Questo va detto. Io ho un libro in particolare che si chiama Le donne del Bauhaus, sono più di 400 pagine di donne che praticamente nessuno conosce. Sono letteralmente sconosciute di più se non due o tre. E il problema era che, è brutto da dire, ma le donne erano più verso, praticamente, come posso dire, corrente di progettazione come poteva essere la decorazione o il tessuto, ok? Perché questa era una scuola in cui si andava a sviluppare tutta una serie di competenze. Ma queste competenze erano veramente divise tra la costruzione dei metalli, la creazione di tessuti, la creazione di texture, cose del genere. C'era anche teatro. Però, come vi dicevo, il tutto era perfettamente diviso. Cosa è importante? Guardate questa immagine in particolare. Questa è forse il prodotto più importante mai uscito dalla scuola del Bauhaus. Questa seduta si chiama Vassili ed è stata progettata da Marcel Breuer. Chi era Marcel Breuer? Era uno studente del Bauhaus, poi diventato professore all'interno del Bauhaus. La cosa bella di questo istituto è il fatto che andassero ad utilizzare delle nuove tecnologie, ok? E che potessero in qualche modo andare a sfruttarle. Quindi c'era già questa capacità. È come se oggi ci fosse già il corso di intelligenza artificiale tipo simili. Poi dipende molto da quando lo state ascoltando questa puntata. Detto questo, quello che vedete è una seduta realizzata in tubolare metallico piegato. Ed era una tecnologia estremamente all'avanguardia per l'epoca. Qui stiamo parlando dei primi anni venti, ok? 1919 l'apertura, 1933 la chiusura. Qui siamo negli anni venti. Quindi era fatto in metallo, tubolare metallico. E il tessuto invece era fatto in un materiale che si chiamava Esengarn. Una sorta di ferro filato. Non arrivava da un materiale animale come poteva essere una pelle. Ma era più un tessuto. Questo è uno di quei prodotti che è rimasto poi nella storia. Grazie a tutta una serie di imprenditori. Tra il quale Dino Gavina. Dino Gavina è stato quello che alla fine della guerra, della seconda guerra mondiale, ha ricontattato Marcel Breuer che viveva in America. Gli ha proposto di riprodurre i suoi mobili, tra cui questo. E sono riusciti a farlo. Poi ci sono state tutta una serie di vicissitudini che hanno portato questo prodotto ad essere poi venduto e distribuito dalla Cnol. Perché comprò i diritti proprio di Marcel Breuer. Però ecco, questo rimane uno di quei prodotti assoluti che è rimasto nel tempo. Tra i prodotti conosciuti, che magari non sono funzionali al 100%, però riprendono lo stile del costruttivismo. Quindi lo stile costruttivista riprende un po' delle forme primarie, che di solito però sono linee, quadrati, rettangoli. Loro vanno a prendere forme assolute, ma non magari funzionali al 100%. Ecco, questa è una differenza. E cioè, loro seguivano la moda, ma non vi era la certezza che potessero essere funzionali al 100%. La teiera che vedete in alto a destra è di Marianne Brandt, una delle pochissime allieve ammesse al corso di metalli. perché, appunto, come vi dicevo, c'era proprio una divisione netta tra uomini e donne. Ed è stato progettato, sì, in maniera funzionale, ma rimanendo però sempre sullo stile che abbiamo visto precedentemente. Quindi se voi guardate, il corpo, se non ricordo male, era argento, ma deve essere stato poi rifatto da Alessi in acciaio. e le parti scure sono in, se non ricordo male, legno. Se non è legno, è bacchilite. La funzione, però, non è messa al primo posto, perché effettivamente ci sarebbero tanti dettagli che possono essere messi a punto, ma qui stiamo comunque parlando di un periodo in cui non era la funzionalità al primo posto, era più questo nuovo stile. Allo stesso modo abbiamo la culla per bambini, che vedete in basso a destra, sì, quella è una culla, e so anche cosa stai pensando, ma il bambino però cade da lì, vero? Ma come hanno fatto a risolvere quel problema? Alla base hanno messo un peso abbastanza importante che ti permette in sostanza di cullare il bambino e allo stesso tempo evitare che il bambino possa volare in terra, ok? Cosa molto particolare, anche qui la funzionalità non è esattamente al primo posto, c'è più un aspetto estetico di forme assolute. Allo stesso modo abbiamo la lampada che vedete sulla sinistra, non è una riproduzione in realtà, e anche qui lo stile rimane quello assolutamente pulito, lineare, non è funzionale al 100%, nel senso che qui parliamo di lampadine ad incandescenza. Le lampadine ad incandescenza chiaramente prevedono che la lampadina scotti di conseguenza tutto quello che c'è attorno, quindi hanno previsto sì che questa sorta di ampolla avesse una sorta di dissipatore, però comunque toccarla non è che fosse la cosa più comoda dell'universo. Che cosa è successo però nel corso del tempo? Perché è successo qualcosa di diverso, di importante. Il Bauhaus, da quando è aperto, 1919, nel 1925, cambia la sede, ed è la sede che esiste ancora oggi. va in un altro posto ed è scritto lì perché tutte le volte che pronuncio il nome di questa città è un disastro, e questa scuola però rimane lì dal 1925 al 1932. Ora che cosa succede? Succede che Walter Gropius letteralmente fa tutta una serie di finanziamenti e trova tutta una serie di convenzioni con questa città e la trova per riuscire a creare un nuovo istituto grandioso disegnato da lui che potesse ospitare tutta una serie di oltre agli studenti, sia per studiare che per dormire, oltre a una serie di conferenze proprio che potesse ospitare nuovi proprio corsi. Cosa è successo però? che Walter Gropius insegna dal 1919, quindi l'apertura dell'edificio, della scuola del Bauhaus, fino al 1928. Ora, la questione era che a un certo punto, nel 1928, lui deve mollare. Per quel motivo? Perché il Bauhaus è pieno di debiti anche a causa degli investimenti fatti per costruire l'edificio. perché il comune, loro si sono spostati, scusate, innanzitutto in questa nuova città, proprio perché anche in questo caso avevano nuovi finanziamenti, avevano aziende attorno che potevano realizzare i prodotti che avevano disegnato, quindi c'erano grandissime, grandissime opportunità. Però a un certo punto il Bauhaus si ritrova pieno pieno di debiti, anche alzando la retta annuale la scuola si ritrova piena di debiti. E quindi cosa succede? Che viene allontanato Walter Gropius, viene allontanato Walter Gropius e viene introdotto questo nuovo direttore che è Hannes Mayer, che nessuno ricorda mai, ma è stato il direttore tra il 1928 e il 1930, era un professore all'interno della scuola del Bauhaus. La scuola del Bauhaus era una scuola di alta formazione che prevedeva in realtà, ecco la cosa assurda, che se voi lo cercate, il metodo diciamo, non è come oggi che si fanno, non lo so, tre anni di università più due di specializzazione. In realtà lì era, è cambiato ogni volta che veniva cambiato il direttore, praticamente veniva cambiato. Anche durante gli undici anni di, scusatemi, i nove anni di Walter Gropius, anche in quel caso sono cambiate diverse cose, quindi c'era magari prima un percorso proprio ideutico identico a tutti, poi c'era la possibilità di suddividersi tra progettazione, grafica, scenografia, metalli, tessuti e simili. E la cosa poi è continuata a cambiare. Hannes Mayer è rimasto dal 1928 al 1930 perché poi è stato letteralmente allontanato perché è considerato una spia comunista. Considerate che questo è un periodo molto complicato in Germania. Per quale motivo? Perché arriva il nazismo? E qui diciamo che lavorare in maniera aperta era diventata molto 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 complicata. Infatti una volta allontanato Hannes Mayer arriva Ludwig Miss Vandero architetto grandioso architetto insieme a Lilly Reich Lilly Reich lavorerà insieme proprio a Miss Vandero per trasformare questo istituto innanzitutto anche in questo caso alzano di nuovo il prezzo della retta lo trasformano più in in una scuola di architettura ok diventa l'officina del Bauhaus anche in questo caso avevano la possibilità di sviluppare prodotti se voi li cercate ne hanno fatti veramente una quantità infinita esiste ancora l'archivio del Bauhaus e vi spiego poi come è stato possibile e lo trasforma in questo solo che cosa succede nel frattempo succede che la Germania nazista inizia a fare delle pressioni pressioni molto importanti sul direttore Ludwig Mies van der Rohe che aveva un peso politico importante ma era diciamo in una situazione di pericolo per quale motivo perché la scuola viene spostata nel 1932 se non ricordo male viene spostata sì dal 32 viene spostata nella periferia di Berlino si avvicinano più al centro nazista perché voleva salvarla la scuola voleva in qualche modo salvarla e inizialmente diciamo c'è stato il benestare nel partito nazista poi c'è stata una chiusura una chiusura totale perché quello che veniva chiesto era di togliere qualsiasi professore che potesse essere identificato come un comunista un ebreo insomma c'era stata una situazione molto 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 pesante da parte dei nazisti nei confronti del direttore del Bauhaus che era Ludwig Mies van der Rohe inizialmente accettò ma nel 1933 prima pochi giorni prima che aprisse la scuola decise di chiuderla definitivamente anche perché considerate che era in certi aspetti era estremamente libera in certi aspetti in altri era estremamente chiusa il Bauhaus per quale motivo vi dico questo perché era una scuola divisa tra uomini e donne e questo è confermato in tutti i modi in tutte le salse diverse ma allo stesso tempo c'era modo di esprimersi in una maniera completamente diversa nel dipartimento di scenografia questi sulla destra sono alcuni dei costumi utilizzati all'interno i professori che venivano chiamati erano tutti professori che in qualche modo riuscivano a portare qualcosa di diverso qualcosa di nuovo che potesse crescere far crescere questi studenti come vedete sono costumi estremamente astratti estremamente particolari ma sono quel genere di cose che poi può aiutare per andare a creare costumi nuovi concetti completamente diversi eccetera 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 quindi il Bauhaus è stato questo come è possibile che il Bauhaus sia rimasto poi in vita e come mai tutti lo ricordano ancora oggi è possibile perché quando Walter Gropius ha avuto una moglie che avevano diversi anni di differenza più di 20 se non ricordo male che cosa è successo Isse Frank la moglie di Walter Gropius a un certo punto si rese contro che le pressioni iniziavano a essere molto importanti e quello che ha fatto insieme ad altre donne altre mogli dei professori del Bauhaus hanno iniziato a portare a creare mostre dedicate al Bauhaus in giro per il mondo dalla Turchia agli Stati Uniti e piano piano il concetto del Bauhaus è iniziato a crescere in maniera come se fossero i rami di un albero ok fino a quando però la Germania nazista non l'ho chiuso definitivamente ma ormai diciamo il seme era stato piantato e quindi quello che veniva fatto all'interno della scuola del Bauhaus era fatto per promozione quindi queste mostre erano fatte tutte per promozione ma allo stesso tempo sono servite per mostrare qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che c'era precedentemente questo ha aiutato tantissimo e ha fatto in maniera tale di far conoscere la scuola del Bauhaus nel nel mondo ok direi che qui ci possiamo fermare e andiamo avanti con la prossima lezione un saluto ciao ciao